bene vediamo se stavolta ce la facciamo allora mentre guardate i bozzetti di jannick paquette di wonder woman parliamo del film evento ovviamente parlo di film brutti film belli ma film vecchi questo non è vecchio è uscito pochi giorni fa in italia è disponibile su sky o su now tv anche se adesso si chiama solo now non è più tv anzi se dovete proprio spendere per guardare questo specifico film vi conviene now perché costa solo 3 euro il pass messi iniziale e poi potete disdire o magari avete avuto culo vela regalato qualche gestore perché lo fanno ed è la snider cut di justice league detto io sia questo video guardano in due però perché ne voglio parlare perché è un esempio non tanto dal punto di vista cinematografico che c'entra poco no dell'atteggiamento che ormai si è diffuso mai da anni ma adesso si è veramente incancrenito tra tre sensori fan diciamo così cioè non c'è la capacità spesso di vedere e di fare un'analisi pacata in cui si valutano prege difetti no ci si deve schierare ormai si è diventata una a una sorta di tavola tre gambe o odi il regista o anni regista oppure cerchi di essere pacati ed equilibrato ecco la terza cosa è quella più piccola quella più piccola mentre le due masse contrapposte sono quelle più aggressive e spesso totalmente incapaci di andare oltre il proprio pregiudizio allora le vicende di justice league sono un po particolari il film dove uscirono nel 2017 a snider è successa una disgrazia pesantissima in famiglia è una di quelle cose che ti distruggono la voglia di vivere lo dico onestamente tanto che il film è dedicato appunto alla figlia che si è suicidata a otto si chiamava la figlia e quindi il progetto viene passato a joss whedon joss whedon ha una visione completamente diversa da quella di snider mentre quello di snider tendeva a fare diverso della dc abbastanza cupo oscuro pesante in un certo senso visivamente whedon la butta un po più sulla cacciara il suo la sua justice league è piena di battute situazioni di sdrammatizzazione anche abbastanza eccessiva considerati i momenti in cui vengono inserite a vi avviso che faccio degli spoiler nel video tanto sto guardando in due quindi però non era un brutto film non era un brutto film anche se diciamo che c'era una cgi da testate contro il muro e passi c'era sì c'erano comunque delle cose imbarazzate visivamente secondo me c'era un eccesso di momenti comici soprattutto nei confronti di un personaggio flash che sembra veramente la macchietta comica della situazione però era un fin godibile con tutti i difetti che aveva è un fin godibile un te lo solo allora si parte di pace che fosse solo intrattenimento non ci fosse sta gran filosofia e come fin di intrattenimento lo prendi così ti ci diverti ovvio che se poi uno parte già dal pregiudizio dicendo è siccome a me questa cosa qui fa schifo allora invece di chiamarlo justice lo chiamiamo justic sto riferendomi al frusciante che per quando parla di questo film che odia parlo di quello di guido continuo a dire justic si dice justice va bene tutto ma lo storpiamento qui non è dovuto alla mancanza di conoscenza dell'inglese no è una cosa voluta però uscito quello già si comincia a parlare della versione che avrebbe dovuto fare snyder passano tre anni ed esce finalmente anzi più di tre tre anni e mezzo esce finalmente il panzer che dico il panze allora al fin di voi non durava due ore circa e appunto proprio durando due ore c'erano molte cose lasciate a metà molte cose non spiegate molte cose non dette quello di snyder dura tre ore e cinquanta due che però vi dico onestamente non sono pesanti vanno uno se lo guarda e arriva alla fine dice sì ma ancora in cinque minuti non con dieci minuti no perché nonostante il passo di snyder sia elefantiaco ma io non sono fan di snyder lo dico chiaramente io 300 lo brucierei con lanciafiamme per dire per quanto trova reazionario offensivo anche nella moglie di quelle di chi è caduto veramente le termopili e so benissimo che deriva da una novel di uno che dice che non è fascista ma all'anima cioè all'anima di non essere fascista ecco diciamo che sì è vero non è fascista è più vicino ai nazisti che nei fascisti perché è comunque una cosa 300 imbarazzante che con la grafica novel imbarazzante per le idee che ci sono dietro il film è un florileggio di macismo reazionarismo razzismo ricordatevi come viene trattato il poveretto nel film quello con problemi di minimazione fisica le battute sugli omosessuali che fa che fa leoni da riferito gli ateniesi proprio un florileggio di roba nuova no sembrava tirato fuori dagli anni venti per certi per certi concetti di ralenti a casaccio lo stile quello colori desaturati quindi lo stile quello cioè cerchiamo di analizzare però il film io esco un attimo del esempio la di suori make di zombie non è orrendo certo gli zombie che corrono sono anacronistici sembrano più gli infetti di 28 giorni dopo che degli zombie che per la nuova natura essendo morti non è che legamenti ossa funzionano ancora bene vabbè però non è un film orrendo come è stato dipinto da qualcuno ovvio che ribadito se tu parti da un preconcetto il secondo da quel regista lì è comunque una ciofeca a prescindere difficile che ti schiodi da lì io non sto parlando dal punto di vista tecnico non ho le competenze io parlo del punto di vista dell'intrattenimento e del film in sé questo qui dura 3 ore 52 e secondo me è migliore dell'altro è migliore dell'altro perché prima di tutto rientra un attimo nella nella filosofia con cui si è iniziato il processo di costruzione dei personaggi di sì c'è un universo più cupo più maturo più oscuro più violento e questo film è parecchio violento ve lo dico rispetto a quello della marvel che ha avuto una costruzione migliore dal punto di vista strutturale cioè i personaggi ti hanno fatto 200 film ti hanno fatto prima il film stand alone e poi ti introducono nel gruppo però secondo me il vero limite dei film a marvel è che sono troppo per ragazzini o meglio ragionando da fumettare sono troppo per persone che sono cresciute con l'universo ultimate che è rispetto all'universo precedente è molto infantile su certe cose io mi ricordo gli x-men di claremont cioè i macelli che succedevano in quelle in quelle storie cioè non è che adesso un superiore non muore mai lo fare se muore lo deve risuscitare da qualche altra parte in qualche altro modo me lo fa risuscitare l'altra fra virus legacy massacro mutante così andavano giù come 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 spighe di grano la mietitura insomma c'era comunque un'altra idea cioè di cercare comunque di inserire in un contesto di non divinità o di intoccabilità o di ritorni sistematici poi capisco che il mercato è quello che è si deve ragionare anche su quello non è che la dc poi ha fatto maniera diversa anche loro sono arrivati alla se un eroe muore poi deve risuscitare in qualche modo però parliamo solo di questo film è migliore di quello di guido sì sì perché rientra appunto in quella struttura narrativa che aveva iniziato con meno stile con batman verso superman e arriva con questo sì perché è più adulto l'umorismo viene un po più limitato viene più compresso sinceramente flash era nel film di guido era una macchietta mobile cioè non sembrava neanche un eroe utile alla causa perché vuoi il taglio vuoi la costruzione cioè a un certo punto quando c'è una salvare gli ostadi e flash fai quello cioè non venire a fare a botte con quelli grossi che sono un ragazzino e fa anche un po ridere perché insomma flash chi conosce l'eroe all'anima ecco a tanta per dire quicksilver copiato da flash non il contrario la justice league è nata prima degli avenger e la marika copiato da dc e non il contrario nel film di disney der invece all'anima ci sono le battute ci sono le scenette quella in cui sarà la ragazza rallentatore che si frega il virus del per darle cani vabbè ci sono questi comici ma sono più contenuti e comunque diciamo che non avendo film stand alone né flash né cyborg né acqua me in questo film caricano molto cercando di mostrare i personaggi e soprattutto di flash mostrano una cosa verso il finale che per i fumettari è un'anticamera e l'anticamera di flashpoint cioè il fatto che flash è così veloce da poter superare la velocità della luce della velocità di tacchioni cioè andare indietro nel tempo e lo mostrano alla fine del film una scena che è bellissima dal punto di vista della costruzione poi ribadisco arriveranno i detrattori di snyder a dire che merda che schifo che ciofeca porca miseria tiratevi giù le cioè tiratevi giù quell'effetto di pregiudizio dagli occhi la scena è stupenda certo ti rivela subito un potere di flash che non è un potere da poco senza che abbia avuto comunque una costruzione del personaggio se non quella limitata l'interno del film di acqua me diventa meno tamarro e già questo un gran passo avanti cioè momoa è un tamarro dire che recita vabbè lui recita con la facendo ballare i muscoli più di quello non è che fa sa fare però riducendo la sua tamarraggine a il minimo diventa anche un po più sopportabile riesce anche a capire un filino più le sue interazioni certi costumi del tanti dmf continuano a far ridere perché sembra non sono un incrocio tra i cavalieri dello zodiaco e i giocatori della e i big jim una volta i visiterbi sono diciamo che visivamente danno da un po di tarocco però meglio di come era nel film con cui non in cui erano veramente tra occhi e anche qui compaiono personaggi che poi nel caso specifico un caso particolare usciranno nel film di acqua mentre è uscito prima del fide la del film di snyder e cercano di dati un tessuto in cui sta vivendo atlantide la sequenza della battaglia delle amazzoni contro steppenwolf è bellissima secondo me ed è violenta non è una ragazzata cioè qui le amazzoni cascano come mosche si rende un attimo l'idea dell'epica del sacrificio perché ragazzi questo film è pieno di epica cioè pieno di momenti a da petto gonfio e muscoli fuori c'è dalle amazzoni che si che scelgono di sacrificarsi per far crollare il tempio in cui è contenuta la scatola e cioè vedi queste bestione che spaccano i pilastri martellate sapendo che si verranno schiacciate sotto e due che per far salvare la regina si fanno schiacciare sotto tenendo su un muro in caduta lei ci scivola sotto al muro poi l'asfalta da un senso di epi la battaglia con le mazzoni veramente fatta bene anche la battaglia antica battaglia che si vede tra dark side il vecchio dark side diventasse un ira di dio e i popoli della terra uniti a me ricordato non a livello di spettacolarità di bellezza di testa quella cosa la è inarrivabile cioè la battaglia che apre il signore degli anelli quella con aeronisi dur e così è meravigliosa però l'idea secondo me tanti ha un attimo pensato perché ci sono cose che ricordano quelle dalle amazzoni che lanciano le frecce tutti tutti informazioni organizzate a cavallo ecco uomini atlantidei amazzoni e divinità mischiate tra loro abbiamo zeus che utilizza l'attacco dei fulmini è fatto veramente bene ares che non è più quel cartone animato matusa che c'è nel mondo 1 perché quando avrà piaciuto mi ha divertito un casino però ares la scelta di quel tipo di ares mi ha fatto ridere perché pareva il nonno di ares non ares ares che tirano troncola con un'ascia nella spalla di ares è fatta bene la morte della lanterna verde tanto per aprire la porta a un altro personaggio della dc è fatta bene da un senso di epica certo è un epica gonfia c'è steroidata manetta supportata dalla musica dai colori che sono molto punto desaturati a cui tira molto al cupo e qui ragazzi il blu il blu di fondo sembra una cosa normalissima però ti diverti ti gasi ecco diciamo così chi critica questo film partendo dal discorso di avengers and game che è fatto peggio secondo me non tanto come qualità è l'idea di fondo cioè o meglio l'idea certe soluzioni che sono state trovate in avengers and games ribadico che poi non regge il confronto col fumetto e non facciamo un paragoni è una roba veramente imparagonabile sono tirate molto via per i capelli qui diciamo che c'è una costruzione più coerente e ribadisco io non concepisco il supereroe come un santino che quando si incazzano non dà sfogo della sua violenza i supereroi della di sì sono un mezzo divinità o si considerano tali o si vedono tali c'è già all'inizio del film allora we don e snider cominciano con wonder woman nello stesso modo che salva da un gruppo di ragazzine dell'attentato terroristico così però quello di snider vedi il terrorista che diventa polvere non vedi fisicamente lui che viene polverizzato dai bracciali di wonder woman no vedi un'esplosione e il cappello del terrorista che è la roba che rimane di lui il cappello cioè dalla wonder woman che non ammazza nessuno alla wonder woman che fulmi disintegra uno dopo aver pestato a sangue tutti gli altri ti dà l'idea di un personaggio un po più violento e maturo rispetto alle ragazzinate che si vedono spesso nei film della mare in cui se c'è qualcuno viene stimpiato è generalmente o un mostro alieno o una macchina ma non si stempiano gli umani questa mena per menare e soprattutto diciamo la cosa più staccata tra i due film il finale non tanto sul fatto che il finale di della versione di snider a 19 minuti poi di post credit che dovrebbero introdurre il justice click 2 che probabilmente non ci sarà mai perché passati i tempi costi molto alti questo qui è uscito estremi non è uscito in sala quindi si ragiona già un altro tipo di di mentalità però il finale in cui muore step in wolf allora bellisco quasi fanno gli spoiler a nastro nel film di widon viene pestato come un aciu come un tamburello da superman si spaventa così e viene assalito da dai parademoni c'è viene ucciso dai suoi uomini che a me ha ricordato molto i caprimulghi che divorano josh stark nella metà oscura di king ecco già l'idea di fondo è quella che faceva anche un po ridere e il problema con step e anche chi la computer grafica della versione di widon step mo sembrava coperto col domopack faceva veramente cioè non dava l'idea di uno che viene lì spacca due non dava l'idea di potenza sembrava uno che fosse passato di lì per caso qui è completamente diverso qui non viene ucciso da da sud già non viene ucciso dai parademoni viene colpito da aquaman col forcone lo trafiggi su prima gli tira una stringa che metà basta e wonder one lo decapita la scena è molto più violenta e molto più realistica in questo senso c'è che non uno che viene assalito da quattro mosconi volanti perché c'è un po di paura e ho detto qui viene anche tolto il discorso della paura qui i parademoni cercano la scatola perché fiutano l'odore della scatola mentre nel fin di guido si parla di parademoni fiutano la paura che non ha molta logica che c'entra la paura con le scatole viene spiegato anche perché le scatole erano state silenziose silenti fino a che c'era superman c'è quello grosso cattivo cattivo poi per me superman non è mai stato uno dei miei personaggi più preferiti perché troppo buono in questo senso troppo tirato qui invece viene spiegato il motivo appunto non c'è più superman allora le scatole si svegliano anche l'azione di super ecco la parte finale è stata molto rimisionata cioè dal dalla con dall'azione con cui vengono separate le scatole che viene fatta da cyborg a cyborg come flash sono personaggi in questo film vengono molto più sviscerati gli viene costruito un loro background soprattutto per flash e le loro capacità e la loro funzione della storia è ben aumentata cyborg è effettivamente quello che separa le scatole entra nelle scatole le distrugge la connessione tra le scatole flash è quello che gli dà la carica energetica correndo a velocità tachionica praticamente scu termine da 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 fantascienza anni 80 anni 70 dei robottoni ma ci sta ecco la nell'altro finns faceva quasi tutto arriva super aveva fatto tutto lui in pratica tra l'altro io ho apprezzato molto il fatto che si superman che rilasce ha il costume nero completamente nero io già non apprezzavo molto quella baracca un'altra come non mi è piaciuto il costume di di capitan america che puzza un po troppo di pro to be america di trumpismo a d'antan costume nero sta benissimo che ci sta dentro bene stavolta nel film sembra un soprammobile e oltretutto a parte le interazioni con i compagni che sono quello che sono ma onestamente ci sta poco con i compagni fino che il gruppo non si unisce attaccando la base di steppenwolf ha anche un po di senso dell'umorismo quando steppenwolf lo colpisce con con la sua scura da battaglia lui risponde non sono colpito in inglese i'm not impressed non mi hai stupito non mi hai infatti alita contro la scura e la fa diventare fragilissima perché la congela diciamo che sicuramente anche divertente vedono così cioè vedi uno che di fronte a un tizio che è comunque un guerriero un personaggio fortissimo lo tratta più o meno come uno strofinaccio però non lo tratta da solo cioè nel primo film faceva tutto lui alla fine cioè prendeva sberle che era un piacere qui no perché la soluzione finale la fanno i tre e la distruzione delle scatole dovuta agli altri due ecco diciamo che questo film batman sembra un po il corso della squadra cioè ha una funzione di retroguardia ma ci sta perché gli altri cinque hanno poteri poteri spaventosi batman ha la tecnologia ma non ha poteri cioè una volta che i suoi cioè può essere anche addestratissimo al combattimento ma a parte che il batman di benafle che stavolta non lo critico neanche benafle perché secondo me è andata ha recitato anche bene in questo film il batman di benafle non è un batman giovane è un batman avanti negli anni quindi non è proprio un ragazzino che lo si vede cioè è un è goffo più che goffo è pesante nei movimenti non è agilissimo ci sta ci sta un batman così cavolo se ci sta l'ho apprezzato in questo senso ma è ovvio che questo questo batman con queste capacità non può essere messo all'altezza degli altri che sono 55 divinità o meglio le persone arrivano a concepirle quasi come divinità o comunque umani con potere eccezionale tra l'altro nel film viene introdotto un altro personaggio importante che è martian menhanter e viene introdotto anche questo in funzione del fatto che le scatole si sono svegliate martian menhanter non è uno che interviene tanto per interviene in quel momento perché sa che è l'intero universo ad essere in pericolo perché d'arsai cerca l'equazione antivita che lo renderebbe padrone dell'universo e quindi martian menhanter si sente motivato ad agire tutte queste cose il problema che vengono introdotte vengono introdotte tantissime cose in questo film che però si ha rischio che non finiscano in nulla perché se non si farà un secondo un terzo perché questo questo film è concepito come trilogia finiranno un po a perdersi perché poi ho sentito qualcuno anche spoilerato l'idea che ci sono nel secondo nel terzo ma si tratta di spoiler che poi dovranno essere passati al vaglio di produttori che si dicono ma ma questa cosa qui ma non piace e t'attacchi se la vuoi fare ecco diciamo così questo film è lungo tantissimo e ci sta ma ma ci sta perché è un prodotto fatto per la visione da casa nei cinema così lungo non ci sarebbe mai andato secondo me almeno un'ora la segavano perché ragazzi tre ore e cinquantadue in casa te li godi tre ore e cinquantadue al cinema diventano pesantini e ho detto questo non è il signore degli anali versione stesa quello è un capolavoro è un capolavoro in cui se ti perdi alcune cose si sente qui ci sono cose che se anche delle perdi te lo rivedi dopo di assi però non è che ti cambiano esageratamente metà ci sono delle forzature detto c'è una su cui sono ben d'accordo cioè quando bros wayne si rivela flash tirandogli il batarang ecco se flash in quel momento invece di bloccarlo e basta glielo ritirarsi indietro addio cioè ci sta sono piccole forzature di logica che ci possono stare detto sinceramente sono molto più accettabili queste che le vacati in endgame con star lord che sclera e manda tutta la battaglia perché gli hanno ammazzato gamora cioè lascia lascia quelli grossi fare il lavoro non è che c'è una pippa qui invece quello scarso quello che non ce la fa che non ha gli stessi poteri c'è superman c'è però scusatemi batman se ne sta indietro se ne sta indietro cioè fa il supporto lui allo sconto con step will praticamente non partecipa arriva solo scende dopo alla fine quando gli altri hanno già fatto tutto il lavoro per farsi vedere la dark side ecco in questo finder side compare finalmente vediamo com'è anche qui tanos è copiato da dark side non il contrario lo dico perché bisogna chiarirle le cose vediamo anche de sad un altro elemento della della corte della di dark side che oltretutto un complottava l'antologia nei confronti di step one gli sta simpatico diciamo che la costruzione finalmente da un'idea nuova quello che si sarebbe voluto fare cioè da sat che arriva sulla terra con le sue armate tutto quanto il problema è se si potrà fare se si potrà fare dipenderà molto da come andrà perché adesso il problema è questo questo tipo di film è classico film che divide gli entusiasti lo stanno lodando in maniera asperticata gli anti gli anti schneider che qui veramente non si ragiona neanche sulla la storia è buona storia cattiva gli anti schneider lo stanno fucilando a nastro e continueranno così a me sinceramente ricordo un po il discorso di merito a come se si approccia questi mi ricorda quello che dicono di alien covenant io se prendo alien covenant a sé come film a sé è un buon film non eccezionale ma un buon film ma se lo inserisco nella struttura storica di alien è una vacata è una vacata perché uno spiegone inutile su qualcosa che aveva sul punto di far più le stranità all'uomo punto detto questo io se avete la possibilità vi consiglio di guardarlo vi fa passare una bella serata senza problemi poi per i fan della dc secondo me è un buon fatto un ottimo lavoro migliore di altre cose io comunque non sono uno a favore della deriva iper comica che hanno scelto per shazam e così che solamente un film per bambini hanno film per cui io ti consiglio di guardarlo secondo me è migliore dell'altro non sono capolavori nessuno cercava il capolavoro ma come qualità come intrattenimento e anche come storia secondo me è un ottimo prodotto poi ovvio la scelta e gusto è sempre il vostro io vi saluto vi auguro una buona giornata ci vediamo domani